è la panda 750 di gigi pure targata foggia panda 750 e dopo i 100 solo padre pio può salvarti puoi trovare tutto quello che cazzo vuoi qui con 750 fire 34 cavalli da peggio sentasi che fai tu con il pantino diesel che fai tu con il pantino diesel? che fai tu con il pantino diesel? che fai tu con il cazzo